Da quando è uscito questo album, che si chiama Filmosound, abbiamo fatto un sacco di concerti insieme e ci siamo veramente divertiti, è come diventavano una squadra e una famiglia. Devo dire, sono veramente orgoglioso e felice e onorato di poter suonare insieme a questi musicisti meravigliosi e degli amici soprattutto. Questa è la penultima data che facciamo di questo tour invernale. Sono un po' emozionato perché mi dispiace un po' dalla parte che sia la penultima, però ci siamo talmente divertiti, è stato talmente bello che probabilmente continueremo anche più avanti e in futuro. Per cui ci tengo a ringraziare questi fenomeni musicisti che ho avuto l'importanza di incontrare la mia strada. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.